Ciao a tutti amici e buona fortuna per questo video Allora, oggi vedremo Allora Cercheremo il zombie tsunami Il trofeo ho questo Le missioni sono questo Le negozioni sono così Buon gioco Allora faccio pasta per perdere Così io la colgo Ciao a tutti ciò che fanno, ciò che fanno. ciò che fanno. Ah, ho perso. Ecco gli Poi Allora No è sbagliato Facciamo così E così Poi facciamo così Ok Ok Allora Che sonno Allora Allora Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per fortuna pensavo, cioè per mia fortuna ho quasi pensato che il mio zombo celoso non ero andato. Mangiamo tutti e di più, perché abbiamo sete stamattina. Abbiamo fame di zombie, cioè abbiamo fame di uomini e donne. Quindi, andiamo a caccia. Dai, su, su. Su con il morale, su. Perché qua ci sono moltissimi zombie pronti a prepararsi a tutto. Dai, distruggi, bravo. Saltiamo. No, sono morti. Poi. Saltiamo. San Francisco. Ragazzi. Ragazzi. Che scenario. Scenario di Gigi Buffon. Vabbè, non importa. Io mi prendo il ballone. Mi prendiamo il ballone. Mi prendiamo il ballone. Ah, ah. Ah, ah. Aiuto. Che paura, che paura, che paura. Andiamo a distruggire il pullman. Che bello. Distruggiamo poi il taxi. Carro armato. Poi, un'altra macchina. E questo cassonetto. Allora, dobbiamo perdere. Vai, perdiamo, perdiamo. Che bello. Dai, perdi, 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 perdi. Perdi, 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 perdi che noia poi facciamo così 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 allora cosa facciamo? ce ne andiamo? ok allora su Crash of Clans non posso su Brawl Stars non posso perché io non ho internet quindi che facciamo? io direi che ce ne andiamo ciao ciao